E' nel centro dalle cose, in una vita di tuo valore, sicura che il libero è stato, che un anno è stato iniziato a capire con me, in un anno è stato in un tipo di ferie, la pace non provò, che è un terzo di stranieri. Questa medaglia, che è un tributo ai figli di questa comunità, che hanno perso la vita durante la guerra. E quindi oggi ricordiamo l'oro, ma ricordiamo anche e omaggiamo tutti i militari, tutte le donne e gli uomini indivisa, che in ogni parte del mondo difendono la pace, perché sono portatori di pace, a loro va il nostro applauso, la nostra vicinanza. Portano in alto i valori della nostra patria, i colori della nostra bandiera. E lo fanno come portatori di pace, perché da quel punto di vista siamo imbattibili. E allora io sono davvero contento che oggi ci siano i bimbi che poi intoneranno una canzone patriottica.